Aspetta che facciamo un po' intero. Eh, devi stare fermo con la macchina. Ma poi è fermo, capito? Devi stare fermo con la macchina fotografica, perché sono fatti a tonicina. Bello, bello, bello. Questa è forte. Questa è forte. Questa è forte. Questa è portabile. Questa è fotogenica. È posato. È andato. Questa è fotografica.